Una delle importanti novità di quest'estate è che le spiagge libere iniziano, anzi finalmente, a vivere. Per noi una spiaggia libra, specie una collocata così in modo interessante come in quella della Madonnina, non potrebbe essere una spiaggia lacea da se stessa. E quindi la cooperativa ETA-BETA ha creato un programma di eventi legati al sociale, alla cultura, allo spettacolo, all'approfondimento che farà vivere questa spiaggia libra così bella e centrale nella nostra città. Abbiamo avuto un'attenzione su diversi aspetti. Abbiamo una sorta di cartellone teatrale estivo che sono delle narrazioni accompagnate da musica. La stagione è stata aperta da Ora Quartet con Sarabanda Postcomunista, continuerà con la Compagnia della Polvere e le loro letture inframmezzate da musiche. Ci sarà l'Accademia Arotron con uno spettacolo e termineremo con Mureteatro Lupo Incanto. Avremo dei concerti live. A partire dal 13 luglio ospiteremo una preview del Siren Festival, il 14 luglio avremo i Voina, il 4 agosto avremo Colombre, il 18 agosto ci sarà una notte dedicata all'etichetta discografica V4V e il 25 agosto avremo Niccolò Carnesi. Tutti quanti, fine settimana, comunque il venerdì, il sabato e la domenica, ospitiamo dei DJ set. La cooperativa ETA-BETA è già sul territorio da un paio d'anni e si occupa dell'accoglienza, accoglienza migranti. Quest'anno abbiamo voluto partecipare all'assegnazione e all'affidamento di questo chiosco per allargare anche un po' questo tessuto sociale.